Grazie, vedrò di essere rapido perché poi oggi al Ministero è una giornata bella intensa fra scioperi e precettazioni perché per carità il diritto allo sciopero di una minoranza non può ledere il diritto al lavoro e alla mobilità e alla salute di una maggioranza e quindi farò quello che la legge mi permette di fare. Che bel bagno di realtà, ho sentito questi due interventi. Io sono qua da un anno e spicci, ho partecipato a diverse riunioni dei ministri dei trasporti, poi il dossier energia non è nostro, però quando ti trovi in 27 riusciamo a costruire delle alleanze col tedesco, poi ovviamente i tedeschi fanno il loro interesse, quindi l'alleanza col tedesco sull'Euro 7 è andata avanti compatta e con una decina di altri paesi, poi quando la Commissione ha a loro allungato gli e-fuel sui biocarburanti ci siamo trovati in scarsa compagnia, però conto che riusciremo a portarlo a casa. Il risultato significa lasciare aperto lo spazio anche per lo sviluppo e la permanenza in vita del motore endotermico che è assolutamente fondamentale. È un bel bagno di realtà, parto dagli imballaggi ma torno a qualcosa che c'è in maniera assurda anche in questa legge di bilancio e noi abbiamo dovuto trovare la copertura economica per approvare l'ennesimo rinvio della plastic tax, ad esempio, che è una follia che mette in difficoltà soprattutto le aziende più competitive e riciclone d'Europa che sono le aziende italiane, come sul tema degli imballaggi. Sicuramente sarà utile, perché fra poco partirà la campagna elettorale per le elezioni europee del prossimo giugno, che coloro che ci vivono di questi temi vadano a guardare negli ultimi cinque anni chi ha votato come. Perché poi dire alcune cose tre anni fa significava la scomunica, cioè mettere in discussione non il principio green, ma la tempistica green significava odiare gli uccellini, pesciolini, le biciclette, le piste ciclabili, le auto elettriche e la transizione in generale. Noi non contestiamo l'obiettivo finale. Come Lega e come Governo e come Ministro con la Delega dei Trasporti chiedo il tempo perché non sia vissuta come un incubo, perché alla sostenibilità ambientale vanno associate la sostenibilità economica e sociale. Perché risparmiare lo 0,1 delle emissioni chiudendo mille aziende e licenziando 50.000 operai non penso sia l'obiettivo di nessuno. Cosa stiamo facendo? Noi il 75% degli investimenti che stiamo facendo come MIT, PNRR, fondi italiani, hanno una chiave di sostenibilità. Però in maniera temporalmente sostenibile. Io lunedì 20 sono a Gioia Tauro. Sono al poto di Gioia Tauro. Non stiamo parlando di una delle aree a piena occupazione del paese. Vedo l'amico di Anita. Non stiamo parlando di Bolzano o di Trento. Stiamo parlando della provincia di Reggio Calabria che evidentemente ha fame di infrastrutture di lavoro. Ebbene, la normativa, se applicata a Tukur, prevista dall'Europa sulla tassa degli ETS per quello che riguarda i porti italiani ed europei, non significa aiutare i porti italiani ed europei a emettere di meno. Significa costringere gli armatori a spostarsi sui porti nordafricani. Non occorre uno scienziato per intuirlo. Così come i limiti imposti illegalmente dall'Austria al Brennero, non significa migliorare la qualità dell'ambiente. Perché quando crei delle code di 100 chilometri di camion che aspettano di entrare in Austria, evidentemente non aiuti l'ambiente. Danneggi l'ambiente e danneggi il sistema economico italiano ed europeo. Noi stiamo cercando di raddrizzare la nave. Sono fiducioso perché adesso sentire le parole della von der Leyen e confrontarle con quelle della von der Leyen di quattro anni fa ti domandi ma è cambiato qualcuno. È la stessa persona, è la stessa Presidente della Commissione. Evidentemente hanno capito. Anche perché i dati sono dati. Se è aumentato l'utilizzo del carbone, la Germania sta bruciando più carbone. E dimmi come sta insieme la sostenibilità ecologica con l'utilizzo del carbone. Le batterie elettriche è giusto il tema delle materie prime. Perché noi stiamo passando dalla dipendenza dal gas russo alla futura dipendenza da un triangolo probabilmente ancora più preoccupante. Cina, Centrafrica e Sud America. Non stiamo parlando sempre di democrazie evolute, dove i diritti sociali, sindacali e ambientali sono particolarmente rispettati. Tanto più che io nel Codice degli Appalti, che è entrato in vigore il primo luglio, ho inserito fra le premialità per partecipare agli appalti che i prodotti che vengono utilizzati dalle aziende, che poi mi fanno la Napoli-Bari, la Brescia-Vicenza, il ponte sullo stretto di Messina, arrivino da paesi che rispettano le norme ambientali e sindacali. Perché noi rischiamo veramente di tagliarci le gambe, nel nome dello 0,1 in meno di CO2 ci mettiamo mani e piedi legati alla Cina e poi per fare le opere pubbliche italiane, vi faccio un esempio molto concreto che riguarda il trasporto. Io nel PNRR ho trovato l'obiettivo molto fighetto, torno alla Prampolini, molto bello, molto colorato e di cui discutere a Capodanno a Cortina. Noi spendiamo a debito degli italiani alcuni miliardi per comprare 3.000 autobus elettrici. Chic. Cosa c'è di meglio? Roma piena di autobus elettrici. Ma figata. Io arrivo al Ministero e siccome li compriamo facendo soldi a debito, perché il PNRR è in maggioranza soldi a debito, non sono soldi a fondo perduto, sono soldi che qualcuno mi presta e che i nostri figli rimborseranno con gli interessi. Quindi io suppongo che i soldi del PNRR che prendo a debito e restituisco con gli interessi aiutino la produzione italiana, ma non, altrimenti Oscar Giannino amatisce, per l'autarchia e quindi devo mangiare solo la carne prodotta in provincia di Roma. No, però siccome investo dei soldi a debito che devo restituire, immagino che aiuterò aziende italiane. Chiedo, ma noi di questi 3.000 autobus elettrici su cui investiamo un sacco di soldi per girare elettricamente, elettricamente, molto elegantemente in giro per l'Italia, in Italia quanti ne produciamo? Se va bene, meno di un terzo. Altra domanda in genio, scusi, le altre migliaia dove li compriamo? In Cina. Quindi io sto usando dei soldi a debito che mi vanno a bilancio dell'Italia che restituirò per andare a comprare prodotti made in China. Poi è chiaro che il PNRR è un treno che sta passando, io sto cercando di portarlo a terra al meglio. Nel nome della concretezza, del buonsenso, a ogni infrastruttura che noi stiamo progettando e finanziando accostiamo il risparmio in termini di tempo e di emissioni perché la sostenibilità sociale deve andare di pari passo con la sostenibilità ambientale. Faccio un esempio, secondo le stime che stanno aggiornando i tecnici, il collegamento stabile fra Sicilia, Italia ed Europa perché non è il ponte fra Messina e Villa San Giovanni e l'alta velocità Palermo, Roma, Milano, Berlino comporterebbe mancate emissioni di circa 140.000 tonnellate di CO2 a anni. Perché è chiaro che se invece di avere centinaia di traghetti che fanno avanti e indietro tu hai il treno che attraversa lo stretto in pochi secondi risparmi. Quindi lì c'è un vantaggio di creazione di posti di lavoro, di risparmio di tempo. L'Europa dovrebbe fare il tagliando sulle politiche ideologiche green fra 2026 e 2027. Il che è una buona notizia a metà. È una buona notizia perché il prossimo giugno si rinnova il Parlamento europeo e quindi se cambiano gli equilibri diciamo che la maggioranza integralista a guida socialisti verdi che ha imposto tutte queste argomentazioni può cambiare. Cambierà anche la Commissione europea di conseguenza. Quindi il deleterio e dannoso olandese Timmermans adesso sta competendo alle elezioni in Olanda dove spero perda miseramente ma almeno non farà più danni in sede di Commissione europea e arriverà sicuramente qualunque cosa accada qualcuno di più equilibrato e meno ideologico il problema è che il budget di un'azienda non lo fai semestralmente. È chiaro che soprattutto nei settori del trasporto, della logistica, dell'autotrasporto e dell'automotive tu nel 2023 stai ragionando al mercato del 2035. Quindi noi faremo di tutto come governo e come movimento politico per arrivare pronti al 2026 essendoci nelle stanze dove si decide soprattutto a livello tecnico perché io la battaglia da Ministro di Trasporti lo faccio. Noi stiamo preparando adesso il dossier e ve lo do fra virgolette in anteprima perché siamo ancora a livello di bozza. L'Italia organizza il G7 l'anno prossimo. Quindi ogni ministro organizza il suo G7 settoriale. Quello che è di vostro interesse è il G7, trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica. Io sto pensando di organizzarlo intorno alla metà di aprile nella mia Milano almeno questo perché ovviamente è un nodo di infrastrutture logistiche fondamentale. Sentivo parlare di portualità. Noi abbiamo in corso la più grande opera di ingegneristica idraulica che è la Diga di Genova. Magari meno sexy e meno affascinante giornalisticamente del Ponte sullo Stretto ma assolutamente fondamentale per permettere alle grandi navi di entrare nel porto di Genova. Poi ovviamente non basta che le grandi navi entrino. Ieri ho fatto un'altra riunione di due ore sul Terzo Valico. Anche lì tema non particolarmente dibattuto nei talk show televisivi ma fondamentale. finanziato lì utilmente da PNRR con quasi 4 miliardi Terzo Valico significa lavori ultimati entro 2026 in un'ora da Genova a Milano in un'ora da Genova a Torino Ma io lo dico a Torinese è vero che esce al PNRR? No. Almeno la mia posizione è no. Perché è vero che qualcuno dice ecco anche questo vincolo PNRR tu devi rendi contare essere operativo giugno 2026 è chiaro che quando fai uno scavo in galleria quando scavi sotto la pietra puoi trovare come sta capitando ad esempio sul Terzo Valico l'amianto e io non lo so prima dello scavo chiaro che se trovo l'amianto ho tutti dei tempi di bonifica di scavo che mi cambiano quindi anche lì io suppongo che se un'opera o un asilo nido o una casa popolare siccome stiamo sistemando 15.000 case popolari se in un comune un appartamento di questi 15.000 io lo finisco a metà luglio 2026 e non al 30 giugno 2026 suppongo che in sede di Commissione Europea si possa ragionare del fatto che che ci sta con due guerre in corso l'inflazione il caro di energia però Terzo Valico io conto di portarlo a casa perché il vecchio triangolo industriale Torino-Milano-Genova con la diga di Genova con l'alta velocità con la TAV che mi entra in funzione col primo treno merci nel 2032 il tunnel del Brennero che ha il suo primo treno merci nel 2032 e in 25 minuti mi passa da Fortezza a Innsbruck e sempre 2032 per chi crede ai numeri 2032 TAV Brennero metro C di Roma per i romani 2032 Piazza Venezia perché adesso passare per Piazza Venezia per i prossimi anni sarà un calvario però Colosseo Farnesina Roma Nord 2032 primo treno diretto e veloce tra Sicilia Calabria Italia ed Europa quindi è chiaro che un ministero come il mio deve programmare io sono fiducioso i soldi del PNRR penso che li spenderemo non solo tutti ma bene perché dovendole restituire è chiaro che se io con i soldi del PNRR ci faccio lo stadio a Firenze e il campo da padel a Milano non faccio un investimento particolarmente produttivo quindi noi stiamo investendo 39 miliardi come MIT su alta velocità dighe e acqua altro argomento senza grande sex appeal sentivo parlare di Reggio Emilia uno dei temi su cui mi sono impegnato è il tema dell'acqua che dipende dal mio ministero e penso alla diga di vetto sull'appennino reggiano di cui si parla da un secolo mi sembra ecco c'è c'è questa diga di cui si parla da un secolo le comunità locali e reggiane lo dico per i non reggiani come me è un territorio importante fra le altre cose perché si produce il parmigiano cioè questa diga di cui si parla da un secolo che non è mai stata né progettata né finanziata darebbe l'acqua ai contadini ai campi che poi fanno quel miracolo che l'Italia esporta in tutto il mondo ebbene da un secolo non si fa perché ci sono i comitati del no ci sono gli ambientalisti ci sono gli uccellini ci sono c'è tutto quello che c'è in montagna il problema è che poi quando l'acqua non ha delle vasche non ha delle dighe non ha dei bacini di espansione l'acqua fa l'acqua e l'acqua fa quello che fai a Romagna l'acqua fa quello che fai in Toscana l'acqua l'acqua se non è gestita ti crea danni quindi noi dopo un secolo sono orgoglioso il mio ministero ha finanziato coi primi 3 milioni di euro il progetto della diga di vetto perché noi tratteniamo solo l'11% dell'acqua piovana questo magari non riguarda commercio ma riguarda i consumatori i cittadini tutti noi tratteniamo solo l'11% dell'acqua che cadete dal cielo con tutto quello che ne consegue se fai delle dighe l'acqua la raccogli quando ce n'è poca la dai ai contadini quando ce n'è troppa alzi la capienza ed eviti che le città e le pianure finiscano inondate bene abbiamo finanziato sta benedetta diga di vetto ma adesso i comitati no diga si sono trasformati in comitati no grande diga nel senso che noi siamo riusciti a finanziare la diga però adesso c'è la linea culturale però facciamola piccolina ci vuole la diga però non facciamo una digona facciamo una digetta io dico scusa se dobbiamo fare una diga se dobbiamo spendere del dinero pubblico per fare sta benedetta diga che la comunità reggiana aspetta da un secolo facciamola come Dio comanda ovunque io vada trovo il comitato del no e il no ponte e il no mose e il no tav e il no brennero e il no expo e il no giubileo io penso che gli italiani mi paghino lo stipendio per ascoltare ma poi decidere prendermi l'onore e l'onere di decidere e andare avanti con i sì quindi e torno da dove sono partito transizione e sostenibilità sì anch'io ho due figli a chi non piace l'idea dell'aria pulita dell'acqua pulita di un aroma pulita anch'io faccio la raccolta differenziata ogni tanto devo dire che quando esco di casa a Roma Nord con i miei due sacchetti differenziati e faccio la gymkana in mezzo a cumuli di altra roba mi domando sarà utile il mio gesto poi lo intendo come un gesto di responsabilità civica e prima o poi avremo la meglio l'importante è che non sia figlia di ideologia e che non sia punitiva è bello andare a lavorare io non ho discusso mi sono confrontato con un parlamentare di sinistra pochi giorni fa che mi diceva sarebbe molto bello se andassimo tutti a lavorare in bicicletta sì a chi non piacerebbe andare a lavorare in bicicletta significa che lavori vicino a casa che ci sono delle piste ciclabili normali c'è gente purtroppo che non può andare a lavorare a piedi o in bicicletta perché se se arrivi da Viterbo se arrivi da Roma Est e devi lavorare a Roma Sud in bicicletta auguri e ti saluto quindi l'importante è non essere intrisi di ideologia del partito contro le auto contro i camion contro il diesel per carità le auto elettriche benvengano le auto elettriche se il mercato ci dice che gli italiani che scelgono l'auto elettrica nonostante le campagne pubblicitarie miliardarie sono un'estrema minoranza perché il consumatore italiano evidentemente scemo non è fa due conti anch'io ho l'auto elettrica a Roma settimana scorsa sono uscito per andare a lavorare con la mia compagna dopo 35 minuti di ricerca di una colonnina libera abbiamo mollato lì l'auto elettrica e ci siamo organizzati in altra maniera quindi io come ministero sto finanziando colonnine di autoricarica nei comuni nelle province sulle statali sulle autostrade ci sarà il treno a idrogeno in Lombardia il primo treno a idrogeno l'anno prossimo Brescia Iseo Edolo in Valcamonica oggi a gasolio lo mettiamo a idrogeno però se voi mi dite oggi potremo trasformare tutta la logistica e la mobilità in elettrico e idrogeno è una fesseria l'auto elettrica può essere una delle componenti settimana prossima se non erro il 23 fra dieci giorni Enel sarà in Slovacchia per l'inaugurazione di una centrale nucleare che una grande industria italiana sta facendo all'estero e in Romania sono più avanti di noi e quasi ovunque stanno sfruttando il nucleare che perfino la Commissione Europea ha inserito nelle fonti energetiche rinnovabili e anche lì chi dice no al nucleare o è ignorante o ci vuole dipendenti da altri c'entra il negozio il piccolo negozio l'attività artigiana commerciale del piccolo borgo italiano con questo sì anche perché ovviamente se ci neghiamo alcune fonti di approvvigionamento energetico per motivi ideologici e non tecnico scientifici se oggi in Europa ci sono più di 100 reattori attivi e noi siamo uno dei pochi paesi che non ne hanno attivo neanche uno o sbagliano tutti gli altri dalla verde Finlandia alla Slovacchia oppure siamo noi che ci stiamo autocastrando quindi e mi taccio ho passato un anno al ministero codice degli appalti nuovo codice della strada testo unico per l'edilizia riforma del porti e piano nazionale della logistica e degli aeroporti tema della casa tema dell'idrico dighe abbiamo 532 dighe da seguire e acqua abbiamo altri 4 anni davanti perché il mio obiettivo è che questo governo rimanga in carica 4 anni in modo tale che le associazioni e le imprese abbiano un unico interruttore perché se ti cambia ministro delle infrastrutture ogni anno ogni anno devi tornare a spiegargli chi sei che cosa vuoi di cosa hai bisogno eccetera eccetera mentre ad esempio mi è chiaro il mare bonus mi è chiaro il ferro bonus mi è chiaro il ruolo di art nei confronti dell'autotrasporto e ritengo che ognuno debba fare il suo mestiere e di tutto ci sia bisogno fuorché di nuove tasse a carico della logistica e dell'autotrasporto e conto nei prossimi 4 anni di arrivare a un paese più connesso più sostenibile però un grano salis non più sostenibile perché se nel nome del nuovo regolamento che è peggio sugli imballaggi io invece di andare avanti torno indietro evidentemente non è una battaglia sensata quindi pragmatismo concretezza oggettività quello che ho respirato questa mattina non lo respiro tanto spesso perché è molto più semplice magari strappare l'applauso con l'immagine del contadino che cerca moglie di un'enorme pista ciclabile e di monopattini che scorrazzano ovunque però la seconda potenza industriale italiana nel fine settimana se vuole come faccio io con mia figlia può andare in bicicletta mio figlio quando torna dallo studio dall'università può tornare a casa in monopattino però dire che potremmo fare a meno del gas delle auto degli auto articolati dei furgoni che a Roma come a Milano non entri per lavorare se non hai l'auto chic all'ultimo modello non è qualcosa di grim è qualcosa di stupido e in questo momento non possiamo permetterci la stupidità quindi grazie e buon lavoro e buon viaggio a tutti grazie a lei signor Ministro